ti prende zia? Mettilo sulla sedia dietro salite sulla sedia qua, non ti preoccupare ecco lì, guarda ma ti fanno il saluto militare, faranno sono venuta a salutare la casa di papà hai visto zia? sono venuta a salutare la casa di papà mamma, avete promesso? hai ragione zia, hai ragione si stanno posizionando, aspetta perché scendono i colleghi adesso mamma non ti lascia la roba mamma non ti lascia la roba ma non ti lascia la roba ma non ti lascia la roba mamma, papà ma non ti lascia la roba 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 adesso ti daranno il saluto, ti daranno gli onori militari mamma fai l'applauso ai colleghi di papà ti lascia la roba portalo dentro batti le mani 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 batti le mani